Qui invece presentiamo il dispositivo Remora. Remora è un dispositivo innovativo che consente di poter trainare la propria autovettura dietro al proprio camper per andare in vacanza. La macchina è in grado di sterzare con le sue ruote anteriori, di frenare con tutte le quattro ruote della vettura. Dietro funzioneranno fanali, frecce e quant'altro come se ci fosse una persona a bordo. Grazie per la visione!